PEGI 18 Le regole d'ingaggio sono cambiate. Attenzione! A tutte le unità, al mio segnale! Tre! Due! Uno. Silenzio radio. Via, via, via! Qual è il piano? Non fermarsi. Tireranno l'attenzione. Ne fuori di testa. No! Bello, siamo un po' tutti. Togniti i guanti e combatti. Dobbiamo muoverci. Le maniere forti. Eccole. Bello, è stato un po'61 No no. No. Non no. O possiamo害ciare. Chauили censici ilno.